Il dato relativo agli spettatori ai tifosi della Pescara sono 990, qualche minuto fa la notizia ufficiale perché insomma ho parlato con l'ufficio stampa, con Max Bucciante sempre molto disponibile, responsabile dell'ufficio stampa della Pescara, quindi sicuramente saranno più di mille i tifosi della Pescara all'asseguito della squadra, la chiusura della vendita del settore ospiti alle ore 19, quindi restano ancora più o meno 5 ore per acquistare qualche altro biglietto. Chi non avrà la possibilità di andare a Ferrara potrà guardarla tranquillamente, come detto Pocanzi, in TV su Rete 8, rigorosamente su Rete 8, diretta in chiaro sul canale 10 del Digitale Terrestre, poi ci saranno anche altre tre partite esterne e soprattutto il pacchetto comprende anche tutte le altre partite in differita. Ma veniamo alla partita di domani perché sarà una gara molto ma molto difficile, insomma alla spalla è un momento delicato, la spalla è retrocessa lo scorso anno dal campionato di Serie B, tre sconfitte nelle ultime cinque partite, cambio della guida tecnica, non c'è più di Carlo, esordirà sulla panchina degli estenzi, sulla panchina estenze Leo Colucci che ha già comunque vinto la sua prima partita ufficiale l'altro giorno in casa contro il Sestri Levante, gara di Coppa Italia. Vediamo alle scelte probabili di Zeeman, abbiamo anche una schermata tattica, prego alla regia di mandarle in onda, naturalmente mi rivolgo a Francesco Berardinelli. Il probabile 11, insomma secondo noi Zeeman dovrebbe confermare l'11, la squadra che è stata schierata lunedì scorso nel match di campionato, il posticipo di campionato con il gubbio di Piero Braglia. Ricordiamo la straordinaria vittoria per 3-2 in rimonta dopo il momentaneo vantaggio del gubbio del secondo tempo, aveva ribaltato momentaneamente la situazione nella formazione Umbra e c'è stato un finale incandescente con due euro goal di Squizzato, soprattutto di Moruzzi che sarà confermato a sinistra. Dunque Pizzari tre pali, Pierno, Brosco, Mesic e Moruzzi a comporre il reparto retratto al centrocampo Tugnov, ex della partita insieme con Squizzato e De Marco. Attenzione però anche a Manu che ha fatto una gran partita, è stato il migliore del match di Coppa di giovedì scorso, 6-1, vittoria De Bordante ai danni della fermana, quindi insidia De Marco, però secondo noi dovrebbe partire De Marco davanti. Mero la Cuppone, attenzione qui Cangiano probabilmente in vantaggio su a Cornero, però come sceglie in quella zona del campo non sbaglia Zeeman, sarà un dubbio, un ballottaggio che porteremo avanti sicuramente sino al termine della stagione perché si parla comunque di due elementi affidabili di grande qualità. Il grande ex è Luca Mora, partirà dalla panchina, il 38enne di Parma, 135 presenze e 14 gol con la maglia della SPAL. SPAL che dovrebbe presentarsi così, Mora sicuramente ha scritto pagine importanti nella storia recente della SPAL con due promozioni, una della C B nel 2015-2016, l'altra della B alla A l'anno successivo, sempre con Leonardo Semplici in panchina. Allora, questo il probabile 11 che sarà scelto da Leo Colucci, tecnico all'esordio in campionato, Alfonso Trepali, Iglio, Peda, Fiordaliso, Fiordaliso che ha giocato nel Teramo 2018-19 in serie C, 35 presenze e 3 gol, classe 99 e Celia come terzino sinistro. A centrocapo Collo del Bertini e Maestro, altro ex della partita, davanti il tridente formato da destra verso sinistra da Siligardi, Antenucci che non ha bisogno di presentazioni, compirà, cara Gigliola, 40 anni il prossimo anno, quindi insomma non è giovanissimo. E poi a sinistra Rabbi che ha segnato uno dei due gol della vittoria appunto della SPAL sul Sestri Levante l'altro giorno in Coppa Italia. Vi faccio vedere, prima di chiudere, il discorso SPAL-Pescara, domani ore 18.30, l'ultima vittoria conseguita dalla Pescara a Ferrara, 25 ottobre 2009, campionato di serie C. Eccolo qui il gol, sta per mandarlo in onda il nostro Francesco Berardinelli, il lancio di Zanon, il tocco di Ganci e il gran sinistro di controbalzo di Massimo Bonanni. Era il 25 ottobre 2009, l'allenatore del Pescara era Antonello Cucureidù e quella fu la prima vittoria esterna in quel campionato di quel Pescara.